Ciao, sono Turbo Pestarici e quando non sono a fare la pettinosa, anche io contribuisco ai messaggi socialmente utili. Ogni giorno in Italia circa il 31% delle persone con le ascelle preoccupanti fa uso di facce buffe nelle cose di messaggini MMS senza filtro. È ora di dire basta! Le faccine e cose di disegni nelle cose di messaggi è roba che non fa bufferia ma malandrinismo a cose di bimbi minchia. Ficcare le faccine e le casette e cose di Mustafà oggettistica chismilicia fa confusione e a volte non si sa che si fa brutto. È ora di dire basta! Se anche tu vuoi fermare le persone che fanno SMS a cose di pittura e minchiate, scrivi pippocerchietto sui siti www.già non sei buono a scrivere in italiano? Figurati con le minchiatelle. .it o anche www.lo vuoi capire che se ti telefono dopo ogni SMS vuol dire che non capisco cosa c'hai con tutti sti emoticats? .it o anche www.amo ma cuore ospedale sorrisino ciucciotto significa fottuti? .it. Fermiamo sti babbi di pezze confusione che usano faccine e minchiatelle nei messaggi. Leghiamogli le dita ai missili. . .